Quelli che vincerebbero questo concorso, mi permetto di consigliarli di non andare direttamente ai roli drammatici come i tenori che vogliono subito fare i roli drammatici e anche le soprane, di cominciare poco a poco, di fare musica lirica, di cantare Mozart, come si chiama, oltre Mozart, Bel Canto, Donizetti Bellini, così avanti, e poco a poco crescere, perché se si butta da giovane in un repertorio difficile, finisce presto.